Di frequente la città di Dublino riserva piccole sorprese sia a visitatori che ai suoi abitanti. Questa sera, 8 maggio 2013, la prestigiosa Gallery of Photography, in un angolo della caratteristica Meeting House Square, nel quartiere di Temple Bar, ha ospitato un importante evento organizzato dalla Peroni in collaborazione con Alessi, noto marco italiano del design. Presente è Matteo Alessi, marketing director dell'Amonima Casa, che abbiamo intervistato. Siamo qui con Matteo Alessi, davanti a parte della collezione Alessi, e ho un paio di domande. Come mai puoi in Irlanda oggi? Allora, sono qui oggi a Caldino perché stiamo lanciando insieme a Peroni questa esibizione, questa mostra di icone del design italiano, e in più questa sera lancieremo un concorso di design aperto a giovani designer irlandesi per lo sviluppo di un prodotto legato al mondo della birra, e quindi comunque una tipologia ovviamente legata al nostro partner Birra Peroni, ma anche alle tipologie più tipiche del nostro catalogo. Quindi sono queste due ragioni insieme, la mostra e il concorso di design. Ottimo. E che cosa hanno in comune Peroni e Alessi? Ci sono, secondo me, diversi elementi che sono in comune fra le due aziende, nonostante lavorino su tipologie di prodotti molto diverse, in particolare l'attenzione ai dettagli, l'attenzione alla qualità, il focus sulla qualità dei prodotti è uno degli elementi principali. la passione per quello che viene definito all'estero, lo stile italiano, la dolce vita, in un certo senso. Sono due elementi che si trovano in entrambi i brand, in un certo senso, e anche quella che possiamo definire il craftsmanship. e noi vediamo ancora molto i nostri prodotti come dei prodotti fatti a mano con l'aiuto delle macchine, perché per piegare l'acciaio ci vuole una forza che chiaramente le persone non hanno. Però quindi è ancora un grandissima cura nel processo produttivo dei prodotti che noi introduciamo sul mercato e sappiamo essere la stessa cosa per Birra Peroni. E com'è il mercato Alessi in Irlanda? Il mercato Alessi? In Irlanda è un mercato molto interessante. Sappiamo che abbiamo notato che c'è un alto apprezzamento per i prodotti di design e per il design in generale. Dal 2010 abbiamo aperto la nostra concession all'interno di Bruno Thomas, quindi uno spazio personalizzato, gestito direttamente al nostro personale e devo dire che saranno degli ottimi risultati, siamo molto contenti. E anche il resto del mercato sta avendo un buono sviluppo distributivo. Perfetto, grazie mille e in bocca al lupo con il business Alessi in Irlanda ad un vino. Grazie mille.